Poi facciamo l'uscita dal lavatoio, andare alle macchine, la ruzziamo. Poi facciamo l'uscita dal lavatoio. Poi facciamo l'uscita dal lavatoio. Poi facciamo l'uscita dal lavatoio. Poi facciamo l'uscita. Poi facciamo l'uscita dal lavatoio. Non la pianta, non la pianta, non è inutile. Però c'era. Riffa, riffa che la fai. Riffa, rifacciamo in compagnia. Riffa. 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 e c'è il gradinetto è per quello che ti frega oh madonna allora neanche la mia troppo lento stavolta fatta meglio prima troppo lento se la prendi sotto troppo piano c'è un chiacchio da fare devi andare via di inerzia guarda la velocità per superare i canini dai Ale andiamo a casa non mi parte più ho detto bella altra pesta che parte subito due minuti fa io ho detto eh ma mica ci hai detto perchè si sarà imbasata lì no bastarda ma anche la mia stamattina non si vede che c'è ti rendo tanta umidità non non è non è di vazzagli sai secondo me è il difetto di questa che cos'è eh non è non è non è non è non è